Musica 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 Non mi piace, non mi dò, e dà un'idea, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace. Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie 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 Sì, è stato di Gimcheon 선배. Quindi siamo qui qui. Sì, grazie a tutti. Carnecchie 10 anni, a tutti i nostri amici. E la prossima, è una cosa che abbiamo preparato. Qui ciò è il nostro canale, è un canale. qui ciò è importante e questo è importante per l'anno 2018 per l'anno di tutti i nostri amati per l'anno continuo per l'anno di questo e poi il quattro il quattro il quattro il quattro A presto. 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 A presto.